Musica 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 Artistici perché vogliamo portare avanti l'idea della tradizione presepiale e arricchirla, integrarla con quel tocco di contemporaneità che non dispiace affatto al pubblico Musica 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 I giudatori possono votare il presepe preferito e perché c'è anche una giuria tecnica che deciderà poi, ma viaggiano parallelamente, pubblico, voto popolare e voto della giuria La giuria tecnica, dicevo, che deciderà poi il presepe più particolariggiato, più bello, più ricco, più originale Grazie a tutti.